buongiorno a tutti carissimi amici un buongiorno dalla vostra mary cake ecco il pranzo di oggi venerdì 22 marzo ieri sono stata una festa e quindi oggi siamo un po più leggeri allora un'insalata con rugola una bella manciata di rugola due cucchiai di ceci lessi due pomodorini un ceciolo piccolo e una scatoletta di tonno al naturale un carciofino piccolo e tutto condito con un cucchiaio d'olio poco sale e accompagnato sempre da due fette di pane integrale 80 mm